possiamo partire allora buongiorno a tutti io sono alberto monge penso il terzo docente che vedete in questo corso e vi seguirò in qualche lezione in aula e anche in qualche laboratorio ok bene oggi iniziamo a vedere un argomento nuovo che ci permetterà di strutturare un po meglio le applicazioni che andremo a fare ok quindi vedremo in particolare un pattern che si chiama model view controller che appunto ci permetterà di avere delle applicazioni più robuste diciamo innanzitutto perché questo come forse vi avrà detto penso il professor corno nelle scorse lezioni ad esempio nell'esercizio indovina numero c'era un problema principale che forse qua si vede ancora poco ma man mano con applicazioni più complesse si vedrà di più se io vado a prendere il controller di questa applicazione noi vediamo che questo controller è un bel miscuglio di roba nel senso che contiene sia la logica per gestire l'interfaccia grafica ad esempio con gli append text sulle aree di testo o le set text eccetera sia la logica dell'applicazione stessa cioè ad esempio il fatto di fare un nuovo tentativo il fatto di controllare se il tentativo è uguale al numero segreto eccetera è tutto mischiato qua dentro ora voi capite che questo programma è abbastanza semplice tutto si risolve in una trentina di linee di codice ma voi iniziate a pensare a un'applicazione più complessa con cento mille righe di codice se è tutto mischiato in un unico file diventa un casino nessuno capisce più niente magari io che so modifico una stampa qui ma dovrei modificarla anche in altri cento posti e io me ne dimentico e quindi il programma non è più allineato oppure cambio la logica del gioco in un punto ma non in un altro e tutto va a ramengo come si dice quindi dobbiamo cercare dei modi per strutturare meglio le nostre applicazioni e questo si fa ad esempio col pattern model view controller e vedremo che divideremo la logica dell'applicazione dalla gestione dell'interfaccia proprio con classi diverse ok ma per far questo dobbiamo prima partire con il cercare di capire meglio il ciclo di vita di un'applicazione java effects un po' l'avete già visto qui cerchiamo di vederlo più nel dettaglio ok tutto parte dalla classe application no? quando voi fate un nuovo progetto java effects eclipse già vi dà questa questa classe no? allora cosa c'è in questa classe? c'è innanzitutto un metodo main da dove tutto parte e questo metodo main chiama un metodo launch che è un metodo vedremo dopo della classe application che noi non dobbiamo definire è già definito questo metodo launch cioè fa tutta una serie di cose e poi chiama il metodo start questo qua ok? il metodo start cosa fa? in pratica crea una scena in questo caso è creata esplicitamente negli esercizi che facciamo noi noi invece utilizziamo un file fxml vediamo dopo e questa scena poi è visualizzata con stage.show ma vediamo un po' più nel dettaglio questo ciclo di vita non so se siete pratici con i diagrammi o ml più o meno vabbè molto brevemente i rettangoli rappresentano le classi e ogni rettangolo può essere diviso in tre in cui sopra c'è il nome ad esempio questa è la classe application a metà ci sono gli attributi ok? e al fondo ci sono i metodi come vedete la classe application non ha attributi ma ha due metodi che sono start e launch allora come vedete la classe che Eclipse ci dà questa qua la nostra classe è una classe che estende application ok? quindi questa è la nostra classe estende una classe application in cui sono definiti appunto due metodi uno è il metodo start che però come vedete è in corsivo questo vuol dire che è un metodo astratto quindi che noi dobbiamo reimplementare nella nostra classe infatti se vedete noi abbiamo sempre il metodo start con l'override del metodo ok? ereditarietà il metodo launch invece c'è già nella classe application e non ce ne dobbiamo preoccupare quindi tutto partirà dal main della nostra classe che chiamerà il metodo launch della classe application questo metodo launch oltre a inizializzare varie cose crea un oggetto stage la nostra finestra ok? crea l'oggetto stage e lo passa come vedete al metodo start infatti noi nel nostro metodo start start riceviamo già gratis l'oggetto l'oggetto stage ok? benissimo questo oggetto stage l'utilizziamo nel metodo start per agganciarci la nostra scena la nostra scena la creiamo noi l'interfaccia grafica ok? e che cos'è una scena? vedete che noi facciamo proprio un new di una scena una scena è semplicemente un contenitore di nodi ok? i nodi possono essere la textarea la label eccetera tutto quello che ad esempio abbiamo definito nel file fxml loader questi nodi possono essere di vari tipi innanzitutto possono contenere altri nodi pensiamo ad esempio all'hbox l'hbox può contenere vari nodi messi in orizzontale possono essere dei nodi foglia ad esempio una label una label non può contenere nient'altro e c'è un nodo speciale che è il nodo di root il nodo radice ed è quello che noi passiamo alla scena ok? e vedremo che tipicamente il nostro nodo root è un border pane ok? si crea la scena e poi facendo stage.show l'applicazione parte ok? qui manca ancora una cosa un elemento fondamentale che vedremo dopo il controller ok? tenete a mente questo vabbè queste sono cose che abbiamo già detto possiamo possiamo saltarle ovviamente ovviamente i nodi possono generare degli eventi catturare degli eventi che l'utente fa sull'interfaccia grafica e nel controller come avete visto avremo i metodi per catturare questi eventi ed eseguire del codice l'ultima cosa sulla struttura delle applicazioni sono le properties mi pare che ve ne abbia già accennato la volta scorsa negli ultimi cinque minuti se riusciamo vediamo anche un esempio poi pratico cosa sono le properties ad esempio un nodo in java effects prendiamo ad esempio un text field ha delle properties ad esempio la properties testo ok? a differenza di come siamo abituati noi in cui gli attributi di una classe li definiamo ad esempio come stringa string text e poi abbiamo get text e set text java effects utilizza un paradigma un po' diverso cioè al posto di definire una proprietà string text la definisce come text property text ok? questa text property ha un getter e un setter per scrivere o leggere il valore ma oltre a questi due metodi ha anche un metodo text property che restituisce la proprietà stessa è un meccanismo che ci permette di collegare direttamente una proprietà come il testo di un text field a un elemento del nostro programma ad esempio se pensiamo a indovina il numero avevamo la variabile tentativi ok? che man mano cambiava ogni volta che facevo un tentativo questa veniva incrementata di uno e noi con questa proprietà qua possiamo collegare la variabile tentativo direttamente al text field in modo tale che ogni volta che la variabile aumenta in automatico il valore è modificato sul text field senza che noi dobbiamo fare tutte le volte set text questo ovviamente migliora il codice e ci mette al riparo da eventuali dimenticanze eccetera vedremo un esempio e questo collegamento tra la variabile e la property si chiama binding ok? va bene visto questo teniamo a mente quello che abbiamo visto partiamo con il pattern model view controller allora perché ci serve questo pattern perché come già detto ci sono due cose ben distinte una è la gestione dell'interfaccia grafica la gestione dell'interfaccia grafica è tipicamente asincrona reattiva cioè l'utente clicca in un posto quando clicca devo intercettare l'evento faccio qualcosa ma se l'utente non clicca niente non succede niente ok? quindi programmazione asincrona mentre la gestione la logica del programma è prettamente sincrona ok? si inizia a giocare ci sono varie regole e step by step faccio tutti gli step seguendo la logica del programma quindi sono due cose ben distinte che appunto è bene non mischiare ok? anche perché come dice la slide nella programmazione dell'interfaccia grafica il flow il controllo è in mano all'utente è lui che decide cosa fare mentre nella logica applicativa ovviamente siamo noi che gestiamo il gioco ok? e quindi le domande da farsi sono queste come organizziamo il programma dove salviamo i dati ok? come possiamo disaccoppiare l'interfaccia grafica dai dettagli del modello ovviamente poi se dividiamo poi dobbiamo avere un meccanismo di comunicazione tra queste due parti del programma ok ovviamente potremmo pensare a n soluzioni diverse ognuno di noi potrebbe proporre una soluzione tipicamente questi sono problemi che esistono da tanto tempo e quindi le soluzioni si sono consolidate in alcuni design patterns un design pattern è semplicemente una soluzione standard ha un problema ricorrente quindi una soluzione che è già stata adottata da tantissime persone quindi siamo sicuri che funzioni e che vada bene per noi ok? e tra i vari design pattern ce ne sono moltissimi alcuni molto astratti difficili da capire eccetera c'è il nostro model view controller allora a prima vista potrà sembrarvi che utilizzare un design pattern come model view controller aumenti la complessità sia del vostro programma sia del vostro esercizio cioè è più difficile scrivere un programma seguendo un pattern ok? però questo ha innumerevoli vantaggi sul lungo termine ok? sul lungo termine nel senso quando dovete poi modificare delle cose oppure dovete passare il vostro programma un amico che farà le sue modifiche tutto è più facile se il programma segue segue dei pattern ok? quindi c'è un po' di costo iniziale a scrivere bene il programma ma poi tutto si semplifica una volta che imparate vedrete che è una cosa abbastanza meccanica e si farà sempre allo stesso modo ok? ed ecco qua il nostro MVC allora come vedete abbiamo tre parti il la vista view il controller e il model noi fino adesso se pensiamo all'esercizio indovina numero avevamo solo queste due parti giusto? e questa divisione ci veniva abbastanza gratis cioè la vista che cos'era? era la nostra finestra la nostra scena quella che creavamo nella classe application ok? l'interfaccia grafica e controller avevamo una classe controller quindi questa distinzione era abbastanza facile da capire adesso ci aggiungiamo un'altra parte il modello che avrà il compito di salvare tutti i dati e la logica applicativa allora come vedete questo è il pattern quello nella situazione ideale vedremo che ci sono alcune anche alcune alternative a questo pattern innanzitutto l'utente fa qualcosa sull'interfaccia grafica l'interfaccia grafica comunica col controller dice l'utente ha fatto questa azione sull'interfaccia grafica il controller intercetta questo evento con un event handler questo l'abbiamo già fatto allora il controller può subito comunicare con la vista e dirgli ok modifica questo se questo evento non coinvolge i dati ok? pensiamo ad esempio al mouse che passa sopra un bottone ok la vista intercetta questo evento lo comunica al controller il controller ad esempio dice alla vista ok colora il bottone in modo un po' più scuro fine e la vista esegue non ha coinvolto i dati del programma e tutto si svolge tra vista e controller altro caso invece l'utente agisce sull'interfaccia ma ad esempio inserisce un nuovo tentativo ok la vista comunica al controller il controller a questo punto sa che è stato coinvolto un dato il nuovo tentativo allora comunica col modello gli dice guarda devi cambiare il tuo stato è stato inserito un nuovo numero benissimo il modello farà le sue cose controllerà ad esempio se il tentativo è giusto o sbagliato e dopodiché qui viene la differenza tra il pattern ideale è quello che spesso utilizzeremo noi il pattern ideale prevede una comunicazione diretta tra il modello e la vista cioè il modello ha fatto qualche operazione ad esempio ha visto che il tentativo era corretto direttamente comunica alla vista ho cambiato il mio stato ok ho cambiato il mio stato modificati di conseguenza questo è il modo di lavorare che si ha ad esempio con le properties che di prima ok c'è un collegamento diretto ad esempio tra la variabile tentativi e il text field della vista questo è il modo più figo tipicamente l'altra strada che spesso utilizzeremo è ripassare indietro dal controller cioè il modello fa quello che deve fare ci sarà un metodo ad esempio che restituirà un valore al controller e il controller a quel punto farà ad esempio una set text del text field ok quindi non so se mi sono spiegato sono queste due alternative questa è quella delle properties altrimenti si passa di nuovo indietro dal controller ok domande dubbi va bene ecco un modo per assicurarci che abbiamo fatto per bene tutto è quello di pensiamo di dividere a metà qua tra modello e controller riesco a utilizzare il modello anche con un'altra interfaccia grafica ad esempio riesco a usare il modello con una classe di test java che mi testi i vari metodi se riesco a farlo vuol dire che ho separato bene il modello dal controller il modello non deve conoscere niente né del controller né della vista potenzialmente può essere usato da viste diverse e da controller diversi ok lui fa il suo lavoro restituisce dei valori punto se abbiamo fatto questo allora abbiamo fatto bene se invece abbiamo delle set text nel model oppure delle print nel model c'è già qualcosa che non va perché vuol dire che sto agendo sulla vista direttamente ma questo non bisogna farlo ok vabbè questo abbiamo già visto e vediamo l'esercizio principale di oggi che è quello di diciamo rifare modificare l'esercizio indovina numero ma utilizzando il pattern mvc ok allora prima di iniziare così riprendiamo ieri avete visto git mi sembra giusto così iniziamo anche a vedere un esempio pratico di git allora io so che sul web su github c'è l'esercizio indovina numero fatto dal professore voglio modificarlo ok voglio fare la mia la mia soluzione quindi me lo devo portare sul mio pc ok ieri dovreste aver visto che questo si fa clonando il repository ok allora per voi è un po' diverso e anche nel laboratorio farete così prima di clonare il repository dovete fare fork giusto l'avete visto questo dovete fare fork perché voi non avete i permessi di scrivere su questo su questa organizzazione tdp 2019 ok quindi il concetto è mi faccio un fork cioè me lo copio paro paro nel mio namespace che sarà il mio nome utente e dopodiché lo clono e ci lavoro sopra io ovviamente non lo forco bruttissimo come parola ma perché posso scrivere su tdp 2019 ok essendo un docente e quindi faccio direttamente il clon ok voi ricordatevi che poi anche nei laboratori prima di fare il clon dovete fare il fork ok chiaro allora per fare il clon mi serve innanzitutto copiare l'indirizzo del progetto ok che non è quello della pagina web ma è questo qua ok lo copio benissimo dopodiché vado su eclipse ok si vede un po' poco no si vede e faccio importa ok voglio importare un nuovo progetto ovviamente non lo importo come un archive file o un existing project come penso abbiate fatto fino ad adesso perché io non ce l'ho questo progetto questo progetto è sul web lo importo da git ok next next e qui dico voglio clonare a partire da un url next qui lui me l'ha già me l'ha già preso visto che io ho copiato e me l'ha incollato lì questo è l'indirizzo di prima come vedete c'è l'organizzazione tdp se voi aveste fatto prima il fork qui ci sarebbe il vostro username ok va bene mi chiederà utente password ok next qui mi dice seleziona il branch vediamo dopo cosa sono i branch al momento ce n'è uno solo che è il master quindi va bene avanti mi chiede dove salvarlo per me va bene quella cartella next lui ora fa tutte le sue cose ok next mi chiede se voglio importarlo nel mio workspace va bene finish ok eccolo qua come vedete ho il mio indovina numero esattamente uguale a quello del professore ok adesso io posso fare delle modifiche e ribaltarle anche su github visto che però è una modifica abbastanza pesante e voglio mantenere ben separate le due soluzioni non vado a fare commit push brutalmente così sul branch master ma mi vado a creare un altro branch ok i branch servono per avere per avere soluzioni separate su cui si possa lavorare anche parallelamente ok quindi il branch master continuerà a contenere la soluzione del professore sarà fermo lì io faccio un altro branch in cui vado avanti facendo la mia soluzione facendo un altro branch ovviamente lui fa una copia e da lì poi posso iniziare a lavorare come si fa beh facile sempre dal menu team ok switch to new branch posso dare un nome al branch ad esempio refactoring mvc posso configurarlo per push and pull cioè voglio che da adesso in poi quando faccio commit e push queste commit e push vadano a finire su questo nuovo branch lasciando il branch del professore intatto anche perché se no se gli roviniamo la soluzione magari si incazza ok finish come vedete qui sul progetto è comparso il branch refactoring mvc non è più sul branch master ma è su un altro ramo va bene domande su questo astruso meccanismo allora tipicamente voi non farete dei nuovi branch almeno che non lo vogliate però ad esempio noi li usiamo spesso per salvare le soluzioni dei laboratori cioè nel laboratorio ci sarà un branch master che conterrà il testo e il progetto base e poi una settimana dopo due settimane dopo facciamo un nuovo branch soluzione e lì pubblichiamo la soluzione ok ovviamente ora appunto se faccio commit e push finirà nell'altro branch se vado a vedere ah ora non ho ancora fatto commit e push lo vediamo dopo allora riprendiamo le slide ovviamente poi ah dimmi se hai il progetto già salvato ok ce l'hai lì esatto questo perché c'è un conflitto tra hai già un progetto con lo stesso nome nel workspace ma quindi puoi continuare lo stai già l'hai già messo su git no ah è sul tuo namespace allora non devi più importarlo perché ovviamente ce l'hai già puoi direttamente creare un nuovo branch e a quel punto il branch è creato nel tuo namespace sì ok allora eh dipende ci sono vari casi piuttosto nell'intervallo vieni lo vediamo insieme ti consiglio di se la tua soluzione è allineata a quella del professore bene o male continua a lavorare su quella facendo direttamente le modifiche lì tanto poi tutto è su github anche le nostre soluzioni quindi non ti perdi niente ok poi nell'intervallo sistemiamo ok altre domande ovviamente questo probabilmente non lo vedremo mai ma solo per darvi un'indicazione di cosa servono i branch i branch possono anche servire appunto quando ho da fare una modifica pesante faccio un branch perché non sono sicuro di quello che sto facendo così almeno posso tornare sempre indietro vado avanti su questo branch se poi le modifiche mi riescono posso fare un merge cioè posso riunire i branch ok le modifiche che ho fatto le riporto nel branch principale e questo si chiama merge in git non penso lo vedremo però per chi è interessato può può documentarsi ok torniamo al nostro bel indovina il numero allora cerchiamo prima di vederlo sulle slide poi ovviamente lo faremo praticamente queste sono le domande che dobbiamo farci dove dichiariamo le classi dato quale classe deve avere accesso a quale classe chi crea quali oggetti eccetera allora noi partiamo da qui da questa che è la nostra soluzione semplificata abbiamo la nostra vista che è la scena che avrà i suoi vari nodi con i getter e i setter e poi abbiamo il controller che in questo caso si chiama numero controller che come attributi contiene un po' tutto quindi sia la vista che le variabili di gioco tmax nmax eccetera e come metodi anche qui ha sia gli event handler che la logica quindi lo start di una nuova partita un nuovo tentativo eccetera la vista può generare degli eventi il controller può ottenere o settare dei nodi come settext o gettext ok noi vogliamo farlo meglio ovviamente vi siete mai chiesti chi crea il controller se io vado sul mio progetto come vedete questo è il controller ma chi lo crea se vado nel main non c'è nessun new controller ok questo perché il controller viene creato direttamente dalla vista dal fxml loader in particolare se noi apriamo il file fxml ad esempio con sim builder eccolo qua magari non ci avete mai fatto caso ma in basso a sinistra c'è un menu controller dove viene indicata esattamente la classe controller per questo progetto numero controller ok infatti se andiamo anche a vedere ad aprirlo dentro eclipse vedete che c'è un campo controller con la classe del controller quindi chi crea il controller è la vista ok questo perché perché potrebbero esserci delle applicazioni complicate con più finestre ad esempio ogni vista associata con un controller diverso ok bene ora noi vogliamo aggiungerci un modello allora vedete che prendo la logica di gioco sia le variabili che i metodi e le sposto in un'altra classe ok una classe ad esempio che chiamo numero model in cui gli attributi sono tmax nmax eccetera e poi ci saranno dei metodi per iniziare una nuova partita fare un nuovo tentativo a questo punto il controller può fare un get un set su questi metodi del modello e chi crea il modello? se io prendo il mio esercizio dove lo creo il modello? al di là che sarà una nuova classe se faccio una cosa del genere ad esempio qui nell'inizializza del controllore scrivo model uguale new model ovviamente ora mi dà errore perché non ho ancora creato la classe ma qualcuno ha qualcosa in contrario se faccio una cosa del genere non è propriamente giusto questo perché se io creo direttamente il model nel controllore c'è una connessione molto stretta tra il controller e il model cioè il model sarà per forza quello lì e sarà associato solo a quei controller pensiamo a un'applicazione molto più complessa in cui ci sono n controller ok e con questo metodo qua non funziona più perché io avrei n new model n volte new model e quindi avrei dei modelli che sono disallineati pensiamo che ne so al libretto voti che avete iniziato a fare ieri se io ho la mia lista di di voti questa lista deve essere uguale per tutte le finestre per tutti i controller ok quindi deve essere condiviso potenzialmente da più controller e se lo metto qua ovviamente non è più condiviso da nessuno ok quindi il modello non lo crea direttamente il controllore ma dobbiamo cercare un posto fuori da tutto per fare questa new e qual è questo posto la classe application ok la classe application è eseguita una sola volta e quindi è il luogo ideale per creare oltre che per creare la scena come abbiamo visto per creare il modello ma adesso sorge un altro problema creato il modello come dico al controllore che quello è il modello su cui deve lavorare semplicemente aggiungerò un metodo set model al controllore e dalla classe application con quel metodo lì dirò al controllore ehi questo è il tuo modello lavora su questo ok questo è il pattern che useremo sempre quindi imparato una volta è imparato per sempre il la classe application crea il modello ovviamente con una new perché se non fate la new nulla funziona uno degli errori più classici è non fare la new del modello e poi ci sono un botto di eccezioni crea il modello e poi chiama il metodo set model del controllore passandogli questo nuovo modello potenzialmente appunto ci possono essere n controllori quindi n set model ma il model è sempre lo stesso quindi le modifiche che farà un controllore le vedrà anche l'altro controllore ok domande, dubbi? bene allora possiamo possiamo iniziare a farlo praticamente allora abbiamo detto che ci serve una classe model se proprio vogliamo fare le cose per bene creiamo anche un nuovo package ok avremo questo package che conterrà il main e il controller e un package adatto al modello anche perché in questo caso il modello è una singola classe ma presto vedremo che il modello può essere composto da più classi ok ad esempio quando lavoreremo con i database vedremo che le cose si complicheranno un po' quindi creiamo un nuovo package che chiamiamo it punto polito punto tdp punto numero il package base punto model ok utilizzo il package base dell'applicazione e poi ci aggancio un punto model ok finish e lui me l'ha creato e ora è vuoto all'interno di questo package creerò una nuova classe per il momento vuota che chiamerò ad esempio numero model model come volete numero model ovviamente non ha un main finish eccolo adesso abbiamo detto che questo modello si istanzia si crea nella classe application nella nostra classe che è stand application ok quindi qui mi crea una nuova istanza del modello quindi numero model uguale new numero model ok ovviamente devo importarla non la vede ah perché non l'ho salvata forse si non l'ho salvata quindi la salvo e adesso dovrebbe vederla manca? ah giusto bravi vedete manca il nome della variabile ovviamente chiamiamola model import ok ricordarsi di fare la new del modello ripeto perché se no va bene poi abbiamo detto una volta creato dobbiamo comunicarglielo al controller ok quindi a questo punto il controller vado ad aprire il controller dovrà ovviamente avere un riferimento a questo modello ok chiamiamolo private numero model model importo ovviamente non faccio la new qui come detto prima questo sarà solamente il riferimento riferimento che sarà riempito dal metodo set model allora posso farglielo generare direttamente dai clips se no lo scrivo io è uguale source genera getter setter voglio solo il modello e voglio solo il set per adesso mi interessa solo il set genera eccolo qua chiunque può utilizzare questo metodo per dire al controllore per comunicare al controllore il modello va bene lo vado a mettere al fondo perché qua non mi piace ok adesso torno nel mio nella mia classe main e e dovrei fare qualcosa del genere controller punto set model model giusto? e il problema è che qui non so dove prendere il controller questo perché sto utilizzando l'fxml loader che è una classe utilizzo dei metodi statici ma questa load ritorna può ritornare solo un valore che in questo caso è un border pane allora per permettere all'fxml loader di darmi anche il controller associato che vi ricordo ha creato lui perché è la scena che crea è la vista che crea il controller posso definire l'fxml loader come un oggetto ok quindi prima di tutto mi definisco fxml loader chiamiamolo loader un momento un po' uguale new fxml loader ok l'ho definito come oggetto a questo punto qui non userò più la classe ma userò il loader l'oggetto che ho appena creato ok ma avendo l'oggetto va bene posso anche richiedere allo stesso oggetto qual è il controllore che lui ha creato per noi quindi posso dire numero controller controller uguale lo chiedo al loader loader punto get get controller ok adesso il loader appunto lo uso per avere due informazioni il nodo radice che in questo caso è un border pane e il controller e a questo punto questa operazione se messa sotto ovviamente non dà più errori ok quindi rispetto a il codice che Eclipse ci autogenera dobbiamo sempre fare questa piccola modifica ok avere l'fxml loader come oggetto farci dare il controller e richiamare il set model domande domande ok e adesso avendo strutturato l'applicazione vi ripeto che sarà sempre così quindi possiamo andare a riempire i vari pezzi e in particolare a spostare della roba dal controller al modello allora ragioniamo dimmi l'fxml loader certo è semplicemente una classe di del framework java.fx che ci permette di creare la nostra scena a partire da un file fxml ok perché altrimenti noi dovremmo fare tutte le volte crearci manualmente tutti i nodi da mettere nella scena dovremmo fare new text field new label new text area e poi agganciarli alla scena con l'fxml loader scusate è un po' difficile da dire riusciamo a farlo tramite sim builder in poche parole lo facciamo tramite sim builder con un file e questo fxml loader prende questo file e automaticamente per noi ci fa queste new ci aggancia tutto e butta tutto nella scena in automatico ok questo è il suo compito perché altrimenti ovviamente si può fare si può creare un nodo direttamente da codice e aggiungerlo alla scena però non è molto comodo ok in che senso prendere stai parlando ah è non lo so perché è così l'hanno fatto così purtroppo perché ovviamente nessuno è obbligato a seguire il pattern mwc ok è una scelta probabilmente per questo ok dovresti seguire un altro pattern magari dovresti fare altre modifiche ok proviamo a ragionare sulle operazioni che questo modello deve deve fare pensando al gioco riprendiamo un attimo il testo quali sono le operazioni strettamente collegate alla logica di gioco sicuramente potremmo avere una nuova partita ok quindi un metodo per iniziare una nuova partita sicuramente poi potremmo avere un metodo per fare un tentativo ok almeno questi due metodi ci servono poi ad esempio le variabili nmax e tmax sono relative all'interfaccia grafica o al modello al modello ovviamente ok perché fanno parte della logica del gioco non c'entrano nulla con l'interfaccia grafica l'interfaccia grafica al massimo li visualizza ok quindi sicuramente vado a prendermi tmax nmax segreto anche farà parte del modello tentativi fatti anche in gioco anche tutta roba che è relativa al gioco in sé quindi li prendo ctrl x e li vado a mettere nel modello ovviamente utilizzando git non abbiate paura a cancellare e spostare ok il bello di git è proprio questo non dovete commentare la roba prima di spostarla eccetera perché è un metodo errato nel senso che poi avendo una pagina piena di commenti non capite più niente utilizzando git non abbiate paura a cancellare e spostare perché tutte le volte si può tornare indietro quindi è tutto tutta la history è salvata sul web e quindi non c'è problema se sbaglio posso tornare indietro tanto più adesso che ho creato addirittura un nuovo branch ok quindi iniziamo a fare un metodo per una nuova partita public mi serve un valore di ritorno ragionate sempre che questi metodi poi li dovrete utilizzare dal controllore per modificare l'interfaccia grafica mi serve che un metodo per iniziare una nuova partita ritorni qualche valore viene in mente qualche caso in cui possa essere utile ok lui dice potrei restituirgli il valore di in gioco ok però se ci pensi bene questa variabile in gioco è possibile che debba essere controllata più volte durante l'esecuzione del programma ad esempio ad ogni tentativo io dovrei controllare se sono in gioco ok quindi più che ritornarla solo lì forse in gioco merita di avere un get separato che in ogni momento mi permetta di andare a vedere il suo stato quindi direi che sì poteva essere anche un'opzione ma per il momento mettiamo void new game parametri qui non mi sembra ne servano e quindi lasciamo void cosa fa new game beh semplicemente imposterà in gioco a vero giusto e poi dovrà c'è una nuova partita esatto inizializzare tutto quindi tirare a caso un numero e impostare i tentativi a zero ok quindi andiamo a vedere se c'erano sicuramente c'erano queste linee di codice qui eccolo qua inizializza il segreto tra uno ed nmax imposta i tentativi fatti a zero taglio eccolo qua mi sono dimenticato di un'inizializzazione ancora precedente quando creo il modello bisognerà impostare qualcosa tipicamente quindi mi definisco il costruttore ok non lo lascio vuoto ma ad esempio vabbè in questo caso è facile in altri programmi ci potrebbero essere più cose da inizializzare solo una volta all'inizio e in questo caso appena partito in gioco sarà sicuramente a falso l'ho già messo lì sopra però così siamo sicuri meglio due volte che nessuna ok abbiamo fatto il primo metodo semplicemente inizializza le variabili possiamo anche commentarlo non so se avete mai visto javadoc se fate slash due asterischi invio vi permette di scrivere dei commenti ma questi commenti poi sono esportati in javadoc quindi quando passate sopra al vostro metodo new game ad esempio dal controllore vi fa apparire la finestrella con il commento che avete visto che avete messo ok adesso c'è l'altro metodo quello per ad esempio fare i tentativi ovviamente sono metodi pubblici perché dovranno essere usati dal del controllore public questo è un metodo per fare un tentativo serve ritornare un valore qualcuno dice no qualcuno dice sì e stavolta sì che serve perché io dal controllore devo sapere se questo tentativo era troppo alto troppo basso era giusto ok altrimenti non lo posso sapere e quindi ad esempio potrei ritornare un valore int ritorno che ne so meno uno se il tentativo era troppo basso più uno se il tentativo era troppo alto zero se il tentativo era corretto ovviamente qui ci va un parametro che è il tentativo fatto dall'utente int t ok quindi il controllore intercetterà l'input di un numero e richiamerà questo metodo passando questo numero al metodo tentativo del model ok se andiamo a vedere qui nel controllore la prima parte del metodo era un controllo del tentativo ok un controllo dell'input ovviamente anche il controllo dell'input è bene che ci sia anche nel modello ok dato un tentativo devo controllare innanzitutto che la partita sia effettivamente in corso e poi che l'input sia valido che non sia una stringa o che non sia un numero maggiore di 100 ok quindi posso innanzitutto controllare se la partita è in corso perché altrimenti tutto si ferma quindi se non è in game o in gioco vuol dire che non devo andare avanti qui ci sono varie alternative cerchiamo di fare la più elegante nel senso che qui potrei ritornare ad esempio un altro valore che non sia né meno 1 né 1 né 0 che sia un errore che ne so stabiliamo noi che ritornare 5 vuol dire che la partita non era in gioco questo metodo è un po' rischioso però perché ci possono essere vari tipi di errore quindi dobbiamo ricordarci tutto dobbiamo ricordarci che se ritorno 5 vuol dire che la partita non era in corso se ritorno 6 vuol dire che l'utente ha inserito una stringa se ritorno 7 vuol dire che l'utente ha inserito un numero maggiore di 100 capite bene che è un po' un accrocchio cioè funziona ma bisogna essere sicuri di quello che si fa soprattutto se poi mi passate questo codice a me io magari non capisco più niente perché è ritornato 5 perché 6 allora il modo più elegante di farlo è tramite le eccezioni ok quindi se non è in gioco lancio un'eccezione true new ci sono varie tipi di eccezioni in java e noi possiamo utilizzare quella più adatta che ci identifichi il tipo di errore ad esempio c'è quella illegal state exception mi pare sì uno stato illegale a cui posso passarci anche un messaggio la partita è terminata ok programmazione java lancio un'eccezione e bom chi se ne frega sarà il controllore che dovrà poi occuparsene di catturarla di fare quello che deve fare con questa eccezione ok ovviamente lanciate l'eccezione il metodo non prosegue controllato questo possiamo controllare se l'input è corretto ok c'era già qualcosa nel controller andiamo a vedere ovviamente questo controllo qui che provava a convertire quello che l'utente inseriva in un numero va bene qui e non nel modello ok questo perché perché il modello si presuppone che riceva già i dati del tipo corretto ovviamente cioè qui io gli ho detto che tentativo va richiamato con un intero non con una stringa quindi nessuno può chiamare quel metodo con una stringa il controllo se l'input è veramente del tipo giusto va fatto va lasciato nel controllo invece il controllo che qui forse non c'era o c'era non lo so il controllo che l'input sia nel range giusto perché se andiamo a vedere il testo l'utente si qua non lo dice però potremmo aggiungere un controllo affinché l'utente inserisca un tentativo nel range giusto tra 1 ed n max se inserisce 1000 gli diciamo no per favore inserisci un numero tra 1 e 100 ok questo è un possibile controllo non sul tipo ma sul range del valore e questo tipicamente sta nel modello quindi potremmo dire no qua non c'era controllo se l'input è nel range corretto se questo è il caso anche qui posso generare un'eccezione true new ad esempio c'è un'eccezione chiamata invalid parameter exception se ho scritto tutto giusto no import ok e qui posso dire ad esempio string punto format devi inserire un numero tra percento di e percento di virgola 1 virgola nmax ora vado a capo se riesco ok mando semplicemente questo messaggio e ho usato due eccezioni di tipo diverso per discriminare il tipo di error dimmi no allora la system punto out punto print line stampa sulla console di eclipse ok quindi quello è il suo compito ti stampa dei messaggi che puoi usare o se stai facendo un'applicazione stand alone sul tuo computer oppure semplicemente per debug del tuo codice per vedere se tutto funziona ma semplicemente ti stampa la string punto format è semplicemente un modo per concatenare delle stringhe con dei numeri ad esempio quel percento di ma funzionava anche avessi fatto così devo fare la stessa cosa usando semplicemente il più per concatenare le stringhe se io prendo questo non uso la string punto format vediamo se riesco numero tra spazio più vabbè l'uno ce l'avevo già più tra uno e ok concatenavo le stringhe con il più però forse più elegante questo cambia niente ok possiamo ancora migliorare un po' perché magari questo controllo del range lo usiamo qui ma anche magari in un altro metodo magari anche dal controller vogliamo già sapere se l'input è corretto ok supponiamo adesso di cambiare la logica del range o di aggiungere un altro controllo lo aggiungo qua ma poi devo ricordarmi di farlo da tutte le altre parti ok quindi secondo me è utile avere un metodo a sé stante deputato a fare solo quello che possa magari essere chiamato anche dall'esterno chiamiamolo public boolean mi restituisce vero o falso e chiamiamolo tentativo valido a cui ci passiamo il tentativo semplicemente questo metodo tentativo tentativo mi dice se il tentativo è nel range giusto oppure no aspettate no facciamo con calma copiamo solo la if se è nel range sbagliato ritorno falso false altrimenti ritorno vero ok facile no il metodo sì sì ovviamente deve ritornare ma dobbiamo ancora scriverlo in fondo ovviamente ci sarà una return ma poi lo aggiungiamo e qui al posto di chiedermi questo mi chiedo if not tentativo valido di t ok se non è valido lancio l'eccezione però disaccoppiando le due cose io se devo modificare qualcosa della mia logica di controllo dell'input lo faccio una sola volta qua e basta e lo posso anche addirittura richiamare dall'esterno perché è public per avere magari che ne so un doppio controllo sia da parte del controller che da parte del del model ok questa era la parte di controllo e adesso gestiamo il tentativo ok quindi qui ho tre casi possibili partiamo dal dal più semplice if this punto no sì se ho indovinato cosa succede la partita ovviamente finisce quindi imposto in gioco a false ho indovinato finito e poi semplicemente ritorno zero ok ritorno zero perché l'abbiamo deciso noi altrimenti se t è maggiore di di spunto segreto la partita non è finita perché non ho indovinato ritorno uno uno di nuovo l'abbiamo deciso noi una convenzione che ci siamo dati per noi ritornare uno vuol dire che il numero il tentativo è troppo alto return meno uno intanto qui se non era uno di quelle due è sicuramente più più basso se proprio voglio essere sicuro ci metto anche la if che però è superflua ovviamente se metto la if superflua eclipse si arrabbia perché non è tanto furbo perché lui pensa che ci potrebbe essere un caso in cui nessuna di queste if è eseguita in realtà non è vero sappiamo che una delle tre verrà per forza eseguita quindi o ci mettiamo delle else prima delle if o altrimenti leviamo questa if inutile e lasciamo return meno uno così lui è contento è finito questo metodo? manca qualcosa? ok ok faccio un tentativo vedo se ho indovinato oppure no ma dovrò anche controllare i tentativi cioè incrementare i tentativi di uno quindi prima di tutto incremento il tentativo tentativi fatti più più ok ovviamente questo è fatto solo se l'input è corretto ok e poi ci sarà un altro controllo da fare perché se ho già raggiunto il numero massimo se il numero di tentativi fatti è uguale a t max cosa succede? semplicemente anche in questo caso la partita è finita perché ho esaurito i tentativi e quindi semplicemente metto uguale a false questo non significa che il metodo finisce perché supponiamo io sono al settimo tentativo cioè sono al sesto tentativo faccio il settimo ok entro in questo metodo qua vedo che sono arrivato all'ultimo tentativo quindi dico che la partita è finita però poi controllo ancora se l'ultimo tentativo che ho fatto era corretto oppure no ok domande direi che possiamo fare un po' di pausa adesso e poi riprendiamo e terminiamo l'esercizio passando anche al controller ok dieci minuti di pausa e un quarto d'ora grazie grazie a tutti grazie a tutti